L'ufficio del commissario ha aperto 5 giorni su 7 con una task force di assessori per seguire da vicino il post alluvione del territorio livornese, più uno sportello di fidi toscana per la presentazione da parte delle piccole e medie imprese e dei professionisti, delle domande di concessione di microcredito fino a 20.000 euro per i danni dell'alluvione. Tutto questo presso la sede del Genio Civile a Livorno. A darne notizia il commissario per l'emergenza e il presidente della regione toscana Enrico Rossi. Noi sappiamo che è un aiuto piccolo però è quello che possiamo fare e lo facciamo con convinzione. A partire da lunedì qui sarà aperto uno sportello per il microcredito che potrà erogare un prestito fino a 20.000 euro a chi fa domanda, dando una risposta positiva o negativa nell'arco di una settimana e 10 giorni, sì o no, e erogando poi la cifra sul conto corrente nell'arco di un mese e poco più. Quindi fino a 20.000 euro subito e questa è la forza che questo provvedimento può avere. Per il microcredito non serviranno garanzie ma soltanto dimostrare di aver subito danni in seguito all'alluvione. Il presidente Rossi si è poi soffermato sulla necessità di accelerare i tempi di quella che ha chiamato la ricognizione dei danni. Bisogna dichiarare quanti sono stati i danni. È un atto alto però devono farlo le imprese, devono farlo in modo serio. Aiuterà la Camera di Commercio, le imprese stesse a riempire questi moduli e poi li manderemo a Roma. Vanno mandati a Roma entro il 15 d'ottobre, quindi bisogna davvero accelerare su questo tema perché se superiamo in Parlamento il dibattito sulla legge di bilancio perdiamo l'occasione giusta. Per quanto riguarda le famiglie danneggiate dall'alluvione, la regione sta studiando un provvedimento analogo a quello per le piccole e medie imprese.